Quando ho voglia di piatti a base di pesce fresco, vado sempre da Delizia di Mare, dove trovo sia pesce fresco da cucinare, sia meravigliosi piatti e sughi pronti. A volte mi fermo anche per pranzo nel ristorantino esterno, per assaggiare i piatti del giorno, accompagnati da un buon vino. Delizia di Mare, Fish House e Gastronomia.